Alcoa, nuova manifestazione degli appalti, il ritardo nel pagamento della cassa integrazione esaspera gli animi dei lavoratori che chiedono un incontro urgente con la regione. Carboni a rissa davanti all'Eurospin, gli spazi assegnati per la vendita delle palme al centro della violenta lite scoppiata tra due donne di Carboni e alcuni rom, le interviste all'interno del TG. Cine World di Iglesias, una campagna abbonamenti per salvarlo, la città non vuole perdere la multisala, partito anche su Facebook il tam-tam pubblicitario. Io provo a volare, la storia di Domenico Modugno a teatro, lo spettacolo ispirato alla figura di Mr. Volare sarà portato in scena sabato al centrale di Carboni. Ben ritrovati su Canale 40 all'Alcoa, in apertura del nostro telegiornale c'è stata una manifestazione a Cagliari degli operai che questa mattina hanno occupato la sede dell'assessorato regionale al lavoro per chiedere il pagamento della cassa integrazione per i lavoratori degli appalti e aprire un tavolo sulla vertenza. Da parte della regione è stato sottolineato che i fondi per gli assegni sociali saranno sbloccati a livello nazionale non prima di 60 giorni. Sentiamo ai nostri microfoni il disagio che stanno vivendo i lavoratori intervistati da Manolo Mureldu. Allora, noi siamo qui in occupazione perché non possiamo più aspettare i tempi troppo lunghi delle istituzioni. Il sindacato ci ha fatto troppe promesse, io non so più come fare a sostenere le spese abituali di ogni famiglia. Siamo da mesi che non stiamo percependo soldi, purtroppo ci troviamo costretti a fare anche delle iniziative tipo quella di stamattina senza nessun genere di preavviso. Non possiamo più sostenere questa situazione, che le istituzioni si prendano carico della nostra posizione perché non è possibile vivere senza soldi. Le istituzioni ci stanno abbandonando, non ci ascoltano e l'unico modo per farci ascoltare è questo, occupare l'assessorato e sperare che qualcuno, il Presidente Pigliaro o l'assessore a lavoro, ci prenda in considerazione e ci dia dei risultati. Cambiamo pagina, un episodio di violenza si è verificato ieri pomeriggio nel piazzale del discount Eurospin di Carbonia. Per ragioni legate ai posti assegnati per la vendita delle palme, due ragazzi di Carbonia e alcuni Rom hanno intrapreso un'accesa discussione sfociata poi in una vera e propria rissa. Ci siamo fatti raccontare che cosa è accaduto dai protagonisti di questa vicenda. Le due cittadine di Carbonia rimaste contuse e la donna Rom hanno preferito parlare senza mostrare il proprio volto. Sentiamo. Niente, racconto che comunque io sono una mamma sola con un figlio e non avendo lavoro ormai è difficilissimo dargli da mangiare a questo bambino. Ho trovato l'occasione di fermi due soldi per poter mangiare e di vendere due palme che è periodo praticamente di festività. E dunque ho chiesto un mese fa alla responsabile dell'Eurospin se gentilmente ci poteva far mettere vicino al loro supermercato senza disturbare, senza chiedere niente ai passanti per poter vendere e farci due soldi. La responsabile ci ha subito comunicato che saremmo state solo le uniche perché lei non avrebbe voluto nient'altro vicino, giusto per non creare liti o per non vedere bancarelle di ogni genere. Niente, come abbiamo visto il posto era già occupato di questi tre rumeni, tre zingari come noi siamo abituati a chiamarli. E niente, noi abbiamo chiesto gentilmente se si potevano spostare perché comunque noi eravamo lì da giorni e loro prepotentemente ci hanno comunque detto che da lì non si spostavano perché l'Eurospin non era il nostro. E niente, hanno incominciato a insultarci e alla fine la mia amica è andata dentro a avvisare la responsabile ma in quel momento ci avevano comunicato che la responsabile era assente e che comunque c'era un sostituto. Non sapendo niente questo sostituto comunque poi ha chiamato la responsabile e ci ha confermato che potevamo metterci solamente noi. Nel mentre che il responsabile si avvicinava dentro per accertarsi del vigilante praticamente è arrivata una macchina bianca con dentro un ragazzo alla guida e la moglie con tutta la parentela, la moglie di questo ragazzo si è avvicinata contro la mia amica, l'ha stratonata e ha cominciato a picchiarla, a dargli un pugno in faccia e successivamente la mia amica si è girata per difendersi perché aveva paura del viso e l'hanno praticamente in branco l'hanno assalita. Io mi sono spaventata perché comunque in minutina mi sono avvicinata gridando che l'avrebbero ammazzata e alla fine mi hanno picchiato anche a me, strappato i capelli, mi hanno sbattuto per terra, mi hanno rotto gli occhiali, il telefono, cercando di chiamare una persona per potermi aiutare praticamente loro continuavano a sostenere che io avessi fatto una foto alla loro targa. Allora da lì mi hanno fatto un filmino, mi hanno fatto una foto minacciandomi che mi sarebbero rintracciato e adesso io vivo con la paura che comunque essendo da sola con un bambino ho la paura di girare per Carbogna per essermi solo difesa e per poter, come si dice, tirare avanti con due spiccioli per dare a mangiare a mio figlio. Sì ma anche io posso picchiarmi da sola e farmi del male per andare in ospedale e dire che gli altri mi hanno picchiata. Ma quale braccio rotto, braccio rotto, se loro sono venuti a provocare e dire zingari di merda di qua, zingari puzzolanti di là e ci sono picchiate tre donne e poi loro vanno a dire in giro bugie che i maschi li hanno picchiati, adesso sono tornata anche io dai carabinieri perché sono andata a dirgli la verità perché il zio prima di tutto non era lì, ha detto alla radio che lui era lì presente e non era lì io sono andata a dire anche dei carabinieri stanno parlando male, il zio e quelle ragazze stanno dicendo che i carabinieri stanno parlando male dei carabinieri e di qua e di là, anche io se per questo allora mi picchio adesso da sola, magari vado in ospedale e dico che loro l'hanno fatto ma se non è assolutamente vero, se ci siamo picchiate tre donne e poi quando è venuto il vigilante come mai stavano benissimo? Dicono che le avete anche minacciate e hanno paura Ma se loro si hanno minacciato e hanno fatto la foto della mia macchina con la targa perché così dove vedono la macchina c'hanno la targa e la riconoscono? L'hanno detto loro e io l'ho detto anche al vigilante, gliel'ho detto che loro hanno fatto la foto della targa e lui ha detto che non è niente perché quando loro hanno detto che noi siamo zingari puzzolenti di merda e di quella che noi in Italia non serviamo a niente poi mi sono alzata e lei ha dato un sgaffo a me e io l'ho picchiata, cioè ci siamo picchiate tra di noi E' stato dismesso il presidio dei lavoratori del consorzio di bonifica del basso sulcis che ieri si sono incatenati nella sede di via Catania a Carbonia dopo aver ricevuto l'ordine di svantellare l'occupazione dalle forze dell'ordine appena la denuncia per interruzione di pubblico servizio i dipendenti dell'ente con sei mensilità arretrate sono dunque tornati al lavoro ma questa mattina appena giunti nella sede dell'impianto idrico di Monteprano a Trattalia s'hanno riscontrato un guasto sull'impianto non riparabile nell'immediato E' stata dunque sospesa temporaneamente l'erogazione dell'acqua non per motivi legati alla protesta ma solo ed esclusivamente per problematiche tecniche hanno precisato i lavoratori E sulla vertenza è intervenuto anche il consigliere regionale di Forza Italia Ignazio Locci il quale sottolinea la necessità e l'urgenza di un intervento del presidente Pigliaru affinché i consorsi di bonifica vengano riformati tutelando gli agricoltori per troppo tempo bistrattati scrive l'onorevole Locci da vecchie politiche che non ne hanno mai riconosciuto la centralità Una campagna abbonamenti per salvare il Cine World di Iglesias L'esistenza della multisala è stata messa in forte discussione nelle ultime settimane per ragioni che vedono protagonista ancora una volta la crisi economica Una speranza di salvarla però forse c'è Vediamo quindi l'intervista realizzata da Manolo Mureddu con il direttore Massimo Marchiori Massimo Marchiori, direttore del Cine World Qual è la vostra situazione? La situazione al momento non è delle migliori Giusto due settimane fa abbiamo avuto la comunicazione da parte dell'azienda che il 12 di maggio sarà per noi l'ultimo giorno di lavoro speriamo della stagione dopodiché dal giorno successivo saremo tutti e quanti gli otto dipendenti in cassa integrazione fino al 31 dicembre Avete in mente qualche iniziativa per cercare di scongiurare questa chiusura? Per quanto riguarda le iniziative stiamo portando avanti una campagna di sensibilizzazione da parte che vada un attimino a coinvolgere amministratori, politici, associazioni e chiunque voglia un attimino venirci incontro e capire qual è la reale situazione In una delle tante cose stiamo organizzando una manifestazione da organizzare qualche giorno prima della chiusura che vada proprio a coinvolgere scuole di danza, gruppi musicali non tanto per festeggiare perché purtroppo non c'è nulla da festeggiare ma se non altro per dare una risonanza, la giusta importanza a quello che sta succedendo Si è parlato anche di una possibile campagna abbonamenti per scongiurare la chiusura del Cine World La campagna abbonamenti la stiamo portando avanti soprattutto per dare un segnale all'azienda un segnale forte per far capire soprattutto che i cittadini, gli iglesienti tutti gli abitanti della provincia sono sensibili al problema La campagna abbonamenti prevede un abbonamento da 27 euro sono sei ingressi che possono essere utilizzati sicuramente fino al 12 di maggio qualunque giorno della settimana, festivi compresi Secondo voi perché chiude il multisala? Allora, il multisala chiude perché non vengono abbastanza clienti stacchiamo pochissimi biglietti per quelle che sono le potenzialità per quelli che dovrebbero essere poi alla fine un numero minimo che permetterebbe il sostentamento e la continuazione della nostra attività Quanti sono i dipendenti? 8 dipendenti, siamo 2 full time e 6 dipendenti part time Si terrà sabato 12 aprile nella biblioteca comunale di Carbonia alle 18 la presentazione del libro La rombula cacca di Margherita Pellegrini l'iniziativa voluta dall'assessorato alla cultura del comune di Carbonia in collaborazione con il sistema bibliotecario interurbano del Sulcis rientra nel progetto Carbonia scrive il ciclo di appuntamenti con gli scrittori della città e con coloro che scrivono della città interverranno alla presentazione oltre all'autrice Margherita Pellegrini anche l'assessore alla cultura Loriana Pizzalis il disegnatore Dario Mura e l'editore Gianpaolo Cirroni Sempre sabato 12 aprile, questa volta a Iglesias nella sala Lepori verrà presentato il libro fotografico intitolato In Iglesias che presenta luoghi, persone ed eventi che hanno animato la città dalla fine dell'Ottocento al 1950 La realizzazione del volume curato da Laura Sanna in collaborazione con Marco Vacca rientra nel progetto Fototeca di Sardegna finalizzato al recupero degli archivi fotografici voluto dalla Biblioteca di Sardegna di Cargeghe nella serata di presentazione che inizierà alle 18.30 sarà allestita in collaborazione con la Proloco anche una mostra con la selezione delle foto raccolte L'esposizione rimarrà poi aperta con ingresso libero dal 13 al 18 aprile e dalle 10 alle 12.30 mentre per il pomeriggio dalle 17 alle 20 nel Chiostro di San Francesco L'istituto tecnico commerciale Angioi di Carbonia in rete con l'istituto Enaudi di Senorbi ha organizzato per la prima volta in Sardegna le Olimpiadi nazionali di AutoCAD dall'8 al 10 aprile l'istituto ospiterà la finale nazionale e internazionale della tredicesima edizione delle Olimpiadi a cui parteciperanno 43 studenti finalisti provenienti da tutte le regioni d'Italia il programma prevede un incontro con i partecipanti e i docenti nell'auditorium della scuola nella serata dell'8 aprile giovedì quindi domani alle 9 ci sarà la premiazione dei vincitori alla presenza delle autorità locali presso appunto l'auditorium dell'istituto Angioi di Carbonia e passiamo al teatro sabato al centrale di Carbonia andrà in scena Io provo a volare è uno spettacolo che si ispira alla figura di Domenico Modugno sul palco l'attore Gianfranco Berardi sentiamo i dettagli in questo servizio di Tamara Pettis uno spettacolo ispirato alla vita e alle canzoni di Domenico Modugno Io provo a volare ideato, scritto e interpretato da Gianfranco Berardi per la regia di Gabriella Cassolari sarà in scena sabato 12 aprile alle 21 al teatro centrale di Carbonia Io provo a volare presenta note, visioni, parole, ricordi, rimpianti che si mescolano ad un quadro del bel paese sulla scena un giovane nato e cresciuto in una cittadina di provincia che sogna una vita di artista Domenico Modugno diventa il simbolo di questo riscatto attraverso la musica, il teatro, il cinema in virtù del talento e dell'arte Lo spettacolo permeato da ironia e poesia è impreziosito dagli interventi musicali di Davide Berardi voci suliste chitarra e Giancarlo Pagliara alle fisarmonica Io provo a volare la fotografia emblematica della gioventù della provincia italiana smarrita e disorientata tra aspirazioni forse troppo ambiziose e la figra sonolenza di una civiltà antica favorita dal clima, dalla magnificenza di un paesaggio che strega e ancora le radici Lo spettacolo rientra nel cartellone CEDAC ed è realizzato in collaborazione col Comune di Carbonia Con questa notizia il nostro telegiornale termina qui come di consueto vi lascio alle previsioni meteo vi do appuntamento alle prossime edizioni del TG40 Arrivederci Domani nel Sulcis il tempo sarà velato o poco nuvoloso Il vento soffrirà da sud-sud-est con intensità di 6 km orari raffiche fino a 13 km orari Temperature minime comprese tra i 6 e 10 gradi e massime comprese tra i 17 e i 22 gradi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.